Il piccolo borgo marinaro di Cetara si prepara con entusiasmo ad inaugurare la tanto attesa Notte delle Lampare, giunta alla sua 44esima edizione. La kermesse culinaria incuriosisce e attira sé numerosi turisti, innamorati dei colori e dei sapori della costiera amalfitana, nonché delle prelibatezze cetaresi. La serata celebra l'antica tradizione della pesca del pesce azzurro e dei pescatori, un'arte secolare tramandata di padre in figlio e ancora oggi custodita con orgoglio. Ad inebreare l'olfatto e il gusto dei partecipanti saranno gli odori che si sprigioneranno lungo le vie del borgo provenienti dai ristoranti che prepareranno ad hoc le ricette tradizionali. Caponata di tonno, zucchine alla scapece e la fresca granita al limone, ma le protagoniste indiscusse della serata sono le note alici fritte. La novità di questo anno è il doppio appuntamento che si terrà stasera sabato 14 e domani domenica 15 luglio a partire dalle ore 20. Soltanto stasera, dalle ore 20, si terrà la tanto attesa battuta di pesca che regalerà uno spettacolo sensazionale ed emozioni uniche. Le lampare, grazie ad una luna timida e nascosta, illumineranno una luna timida.